Due denunciati e oltre 1 milione e 600 mila euro sequestrati. L'indagine della Guardia di Finanza è scattata a seguito del fallimento di una società di capitali pescarese. Due soggetti, legati da stretti vincoli di parentela e operanti nell'edilizia, hanno ricevuto una misura cautelare interdittiva, quella di non poter dirigere imprese per un anno. I due avrebbero sottratto beni al pagamento delle imposte tramite accordi simulati con una società indebitata con l'erario a favore di un'altra società, sempre riconducibile ai denunciati, che è successivamente fallita. Gli immobili passati da una società all'altra sarebbero poi stati trasferiti a una terza società, sempre riconducibile ai due, tramite contratti simulati. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori trasferivano e reimpiegavano i beni, così da camuffarne la provenienza delittuosa. I due ora dovranno rispondere dei reati fallimentari e tributari e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita, uno di loro è accusato anche di falso ideologico, perché nel tentativo di depistare le indagini per la bancarotta fraudolenta avrebbe esporto denuncia riguardo il danneggiamento della documentazione contabile di una società fallita. Intanto le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro preventivo di nove immobili, delle quote societarie di nuove persone e di 17 rapporti bancari finanziari per un valore di oltre un milione e 600 mila euro.